ancora per pochi giorni il centro cornici di corso risorgimento a novara ospita una personale del pittore naif alfredo vallese fino alla metà di maggio verranno esposti qui quadri del pittore naif alfredo vallese qui in corso risorgimento a novara al numero 79 in orario di negozio dalle 9 in quarto alle 12 e 30 e dalle tre e mezza fino alle sette e mezza una bella iniziativa forse un po insolita per un negozio come questo è un'iniziativa è una mostra ecco una mostra di pittura che io propongo qui al centro cornici di corso risorgimento un po per amicizia del titolare andrea che ogni tanto abbiamo dei contatti tra cornici esposizione quadri abbiamo deciso di fare un'esposizione che diciamo durerà fino a quasi la fine di maggio ecco diciamo che ho portato qui una ventina di quadri scelti insomma diciamo quadri che ritenevo di un buon livello e diciamo che si può visitare tutti i giorni in orari di negozio perché questo oltre a essere una galleria d'arte e anche un negozio di cornici e niente io invito se qualcuno volesse vedere qualche quadro di buon livello venga pure ci sono dei bei paesaggi ci sono dei quadri da collezione quadri un po vecchi storici dei miei c'è una piccola scelta di d'arte insomma dei miei quadri il genere per chi mi conosce sa che è genere naif olio su vetro sono tutti dipinti su vetro i miei quadri oltre a questa mostra qui che ritengo una buona mostra a Novara ne farò un'altra poi a Novara a dicembre che sarà alla canonica mentre ne avrò una in Romagna a Rimini ad agosto fine luglio e agosto e poi avrò qualche collettiva con dei maestri famosi grazie